Chiediamo a Ladino di aprire un serio confronto sulla sicurezza dei bambini, analizzando il nostro progetto che permetterebbe a tutti i nostri figli di avere una scuola sicura. Lo affermano da gruppo consigliare di Pratole Insieme sul trasferimento della scuola dell'infanzia dopo la modifica al PRG passata in consiglio. Per Pratole Insieme è arrivato il momento di dire basta all'assolutismo monarchico. Se il sindaco non vuole visionare il nostro progetto e sedersi con noi a ragionare sulla sicurezza dei nostri figli, allora invitiamo la Giunta a dimettere un nuovo avviso per la ricerca di immobili per mettere in sicurezza tutti gli alunni frequentanti l'istituto comprensivo, dato che è stato fatto per i bimbi della materna. Intervengono da Pratole Insieme spiegando che località Pratelle il traffico giornaliero è stimato intorno agli 8.000 veicoli. Il costo dell'operazione è di 50.000 euro più IVA che il comune verserà alla società proprietaria dell'immobile. Trattasi di un cannone di affitto annuale. Per il momento il periodo è 18-24 mesi. Solo circa 140 bambini su 500 potranno così godere di una struttura antisismica all'inizio del prossimo anno scolastico. Qui non si tratta di ripicca elettare da diversi colori politici, ma di lavorare per i beni della nostra collettività, fanno notare da Pratole Insieme, convinti che non è giusto che ci siano nel nostro paese ragazzi di serie A e ragazzi di serie B. Sindaco ci dia 10 minuti del suo prezioso tempo, ci ascolti, magari riuscirebbe davvero a mettere in sicurezza le scuole nei famosi 10 minuti che ha promesso. Non faccia finta di nulla e abbandoni la strada dell'assolutismo monarchico. In democrazia bisogna avere l'umiltà di ascoltare tutti, soprattutto quando si discute di temi così importanti, che hanno a che fare con la sicurezza dei nostri figli, concludono dal gruppo di opposizione, rivolgendosi al sindaco Antonella di Nino.